Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Chi invece è molto sicuro di sé è il signor Lapolla. Stasera ho voglia comunque di andare a giro, di stare con le ragazze, insomma di girare un po' il collegio. E la prima tappa è l'esclusiva camera singola di Andrea Di Piero. No, non farlo, non farlo! Cos'era sto rumore? Cos'era questo rumore? Ho cascato le doghe nel letto, vanno rimesse, solo che non sa come si fa. Non sono spaccate, sono tolte quattro doghe, mi sa. Si sono rotte le doghe! No, non ci sono rotte! Si sono staccate da sole le doghe! No, perché mi sono messo a sedere io sopra. L'ho fatto così, li faccio vedere. Boom! Ah vabbè, il sorvegliante gli ho detto la cazzata. Mi sembra strano che si stacchino le doghe sedendo su un letto. Non è che mi sono messo così, mi sono messo di peggio, cioè boom! Imparate a sistemare le doghe. Scusi? Secondo me il sorvegliante c'è che... ... 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